4, 3, 2, e si eccola qui, è bene si, si, si no, no vabbè ma non va, per mio, non sembrate un pubblico pagante, dio mio, quanto tempo, voi mi avete tenuto in vita, voi paganti, non quelli a casa, vi bacio tutti, dio mio, anche voi poveri da 40 mila lire, bravi, cosa dire, chiudiamo quella cosa lì per piacere, chiudiamo quella roba lì, mi sono portato la mia scenografia da Genova, chiudiamo quella, il passato deve andare giù, poveri, povero Fritzi, dov'è Fritzi, è invecchiato di 20 anni, tira giù, mi sono portato la mia scenografia, eccola qua, ora io ho talmente tante cose da dire che non so da dove cominciare, perché ho 5 anni di cose, allora devo dirvi, in 50 minuti 5 anni di robe e anche per 5 anni, i prossimi 5 anni, perché faremo solo questo e poi devo andare ancora via 5 anni, ve lo dico, allora, voi pensate che cosa, voi siete qui, siete venuti, voi a casa, pensate a tutti, chi sa grillo, con tutto il casino che è successo, tangenti e tutto, chi sa grillo, cosa dirà sui socialisti, niente, niente, basta, basta, quali socialisti, basta, non dico niente, poi non si può, io non ne parlo più di quelli, poi specialmente di quello lì, che sta facendo cenere da tutte le, fa cenere da tutte le parti, con Di Pietro, fa delle cene, ho paura, io ne parlerò quando lo vedrò rovinato nel tutto, magro, a Marrakesh che vende delle stringhe così, allora ne parleremo ancora, sì, bevo, guardate che se io avessi qualche cosa di preparato, io non so cosa sta succedendo, non riesco più a capire, la realtà supera qualsiasi fantasia, se mi fossi preparato delle robe, non lo so, guardate che è veramente un, cosa dovremmo fare, mettere in galera tutti, questo qui esce adesso, Sama, i soldi a tutti i partiti, l'amministratore delegato, Sama, della Montediso, era, faceva il tapeziere a Ravenna, ma ve lo giuro, ha tapezzato una fila di Ferruzzi e è diventato amministratore delegato della CONI, ma lo capite in che mani, come fai a inventarti queste cose? E Berlusconi, Berlusconi io non, credo che fosse un uomo straordinario, ma fa delle cose che non si capisce, è che va in quelle cliniche per dimagrire, gli fanno la liposuzione e devono avergli l'iposucchiato una parte del cervello, no, ma no, non è, state bene, perché è un uomo, ma no, per l'amor di Dio, è un uomo che finalmente è venuto fuori, finalmente faremo chiarezza, finalmente non ha più il politico da dargli delle pennellate di unto, non unge più dei politici, c'è rimasto lui e deve rischiare lui e ha fatto la prima cappella, quella di fidarsi dei giornalisti, è andato lì, gli hanno detto una preferenza, gli hanno detto quello là, tutti i titoloni, ed è rimasto vittima di un giornalismo che ha creato anche lui, perché è un uomo che questo qua, che sta facendo, tra un po' farà un botto pazzesco, perché è un uomo che è cavaliere del lavoro, ma dovrebbe essere chiamato cavaliere dell'apocalisse, perché ha 4 mila miliardi di debiti, ma come fa uno a fare 4 mila miliardi di debiti? Io dovevo 300 mila lire a uno, mi dormiva sul pianerotolo se non le ridavo, e questi sono i grandi economisti, fermi, sono i grandi economisti, ma vedi come gli si ritorce contro tutto a questi qua, gli si ritorce contro tutto, i giornali, i giornalisti, i suoi giornali, gira in se stessi, e lui è lì, che è stravolto perché cosa succede? Lui a canale 5 cosa fa? Paga i 30 mila dipendenti, che è vero, li paga in una banca che è la Cariplo, dove gioca su 2 o 3 giorni di valuta, li paga lì, li manda in vacanza con la sua società di vacanze, gli fa l'assicurazione con la Mediolanum, gli dà la casa a Milano 2, quella con laghetto, con scritto laghetto, c'è gente terrorizzata che vorrebbe andare in un posto vero? Li fa fare la spesa alla standa, devono fare la spesa alla standa, ma sai che c'è gente terrorizzata? C'è Fede che l'hanno visto di notte che andava alla Rinascente, perché lui, ma quale manager? Questo qui è un rurale, è il feudo, li paga da una parte e li prende dall'altra parte, è un mezzadro, ma c'è gente, i fornitori della standa, ve lo giuro, li paga in spot, uno è andato lì con mezza carne, gliel'ha posata lì, mezza bestia, alla standa e gli ha detto, i soldi, questo ha detto, ti facciamo fare un serial, come un serial? Li faccia lei in serial, paga in pubblicità, dovremmo fare lo stesso noi, andare a fare la spesa alla standa, uscire col carrello e non pagare, uscire e fare pubblicità a noi alla standa. È bellissima la standa, è straordinaria, ma come fai a immaginarti queste gente? Noi dovremmo mettere in galera chi? I politici? Questa è la soluzione? Li mettiamo in galera tutti? Dovremmo, per mettere in galera tutti, andarci un'oretta tutti, tutti, dovremmo andarci tutti, perché per vent'anni siamo andati avanti così, facendo finta di non sapere niente, è vero o sì o no? Tutti dovremmo andarci, su, dai, un pochino, mezz'oretta, dai! Se scaricavamo ti acchiappavano a te, ti acchiappavano un altro, te l'altro acchiappavano l'altro, come l'IVA facevamo, te la caricavano a te, te la scaricavano l'altro, te la scaricavano l'altro, te la scaricavano l'altro, arrivava l'ultimo, la riscaricavano, il giro della morte! Per trent'anni! Per trent'anni siamo usciti di notte col passamontagna e andavamo a svaliggiare le case, tornavamo a casa nostra con la refurtiva e ci avevano svaliggiato a casa nostra. Il giro della morte! Siamo andati avanti vent'anni così finchè è successo che cosa? Che questo giro è stato interrotto da un elemento estraneo, un elemento che si pensasse, si pensava non esistesse più, un onesto! È bastato un onesto che dicesse stasera non ho voglia di uscire, sto in casa, che si è disintegrato il sistema! Ma è vero! Ma questo onesto chi è stato secondo voi? Fermi, chi è stato? È stato Di Pietro? Ma Di Pietro è solo un grande carabiniere, un grande pollicciato che fa il suo lavoro, ma sono stati... chi è stato? Il primo corruttore, ve lo ricordate chi era? Zampini, quello di Torino, quello che dava tangenti da 300 milioni per avere appalti da 250, perché è fallito in una settimana, ve lo giuro, non aveva bene in mente il meccanismo! Ma è vero! Beve! È vero! Chi è stato? Ma lo sapevamo tutti, bastava vedere un film di Dino Risi di Ventali, fa c'era tutto, c'era tutto, sapevamo tutto, ma chi ha fatto succedere sto casino qua? Sono state delle figure che ce le siamo dimenticate, non sappiamo neanche i nomi, le facce, sono state le mogli, le donne, siete state voi le artefici di questa cosa meravigliosa e nessuno se ne ricorda! La moglie, la prima moglie di quel deputato del Movimento Sociale di Roma, della US, ve lo ricordate che arrivò a casa con 30 milioni e lei disse in questa casa questi soldi non li voglio! Apri la finestra e li buttò fuori! Forse è successa a Genova, non se ne sarebbe accorto nessuno perché in 10 secondi sparivano! Queste donne qua, vi ricordate? La moglie di Chiesa, quello di Milano, non è stato lui, è stata la moglie che ha detto siamo separati, mi dai 800 mila lire al mese e ti imbosti 15 miliardi, ti faccio fare un mazzo così a te, a quelli come te, gli ha fatto fare un mazzo così! Le moglie, la moglie del giudice Curtò, il giudice Curtò, quello che l'hanno preso subito, che non era capace a rubare, era la moglie che lo istigava, lo seguiva in casa, sei l'unico che non ruba, scemo, sei l'unico, sei stupido! Ha acchiappato 400 milioni, dopo una settimana era così, dove l'hai messo e l'ho buttato nella spazzatura, non vi ricordate? Ma noi dovremmo essere grati a queste donne qui, a queste persone qua e dovremmo dedicare a una città, in tutte le città, una piazza, alla famiglia Poggiolini, si, Poggiolini, già il nome, ne sembrano due della US, sono arrivati i Poggiolini? Sì, sono i Poggiolini, i Poggiolini, Poggiolini è stato straordinario, Poggiolini ha avuto un grande merito, ci ha fatto vedere i soldi, non ne avevamo mai visti, sentiamo da anni parlare di tangenti, miliardi di tangenti, 30 mila miliardi, lui ce li ha fatti vedere, andavi in casa sua, ti si devi su un buco, un miliardo e mezzo nel buco, hanno visto la moglie di Poggiolini con un divano da quattro depositarlo alla banca del lavoro, cosa fa un trasloco? no, è il libretto degli assenti, ti dico, ma è vero, questa gente qua, fermi, allora, Poggiolini, Poggiolini ci ha fatto vedere i soldi, ne abbiamo sette per dire valare 30 mili botti, il CCT ha aperto la cassaforte che era un monolocale in casa sua, ha aperto, e cosa aveva? I botti e il CCT? Te, i botti e il CCT? Lui, Marenghi, Dobloni, Dobloni, ma dove va a comprare uno dei dobloni? Hai mai riuscito a comprare un doblone? Tu essi e gli dici, un giorno vorrei tre dobloni, era pieno di pepite, lui dopo mezzanotte si chiudeva nella banca e nuotava nei dobloni, con la moglie, con dei lampadari di zafferi che gli diceva è poco, è troppo poco, e quando gli hanno trovato altri 50 corti da un miliardo e mezzo l'uno in banca, gli hanno detto, cos'è sti soldi, cos'è sono sti soldi? hanno detto, eh, sono una vita di risparmi, una vita di risparmi, ma Poggiolini, Poggiolini non è, era solo un menomato mentale, uno malato di mente, uno che faceva una vita di un pensionato normale e prendeva setonella, perché era la prassi così, e vogliamo mettere in galera questa gente qua? Non serve, vogliamo mettere in galera De Lorenzo? In galera? Ma perché sì? Se tu prendi uno e lo metti in galera, vuol dire che lo reputi, che lo togli dalla società perché è pericoloso, non è pericoloso, ha una famiglia sfasciata, gli hanno arrestato il fratello per traffico nelle cliniche, il papà a 82 anni faceva dei casino negli ospedali, il nonno spacciava cateteri, una famiglia così, cosa vuoi fare? Ma lo vuoi mettere in galera? Non lo voglio io in galera De Lorenzo, non lo voglio, non voglio vendette, non lo voglio togliere dalla società perché sono persone che nella società non ci sono mai stati, li prendi, li metti in galera e diventano pittori. E poi un galeotto quanto costa? 350 mila lire al giorno, è vero sì o no? Ci costa questi soldi? E chi se li prende? Chi se li paga? Lo metto nero, di nuovo, io non voglio assolutamente mettere in galera nessuno, bevo. De Lorenzo in galera, io voglio condannarlo a tre anni, tre anni di inserimento nella società. Noi ti condanniamo a sopravvivere con un milione e quattro lordi al mese, lordi, un mese, tre anni e ti fai la tua coda per i medicinali, ti mettono il bolino qui come una cicchita e ti fai la coda per il medico di famiglia e lo paghi un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no, a seconda se la applicano questa maledetta legge. Condanniamoli a sopravvivere, io non voglio vendette. Noi ci siamo tenuti questa gente qua, sia Poggiolini che De Lorenzo, erano scienziati, non erano amministrativi, ce li siamo tenuti degli anni. Questo qui andava dal Costanzo solo a fare lo scienziato e diceva delle cose e lo showman diceva, buono, non devi rispondere al ministro, buono! E lo scienziato era questo qui, lo scienziato! Poggiolini aveva la cattedra qui a Roma, lui De Lorenzo era, cos'era, bioricercatore, pensa che carriera, da bioricercatore a quasi bioricercato, praticamente è andato dall'altra parte del microscopio. Allora, voglio dire, ma gli scienziati sono questi! Ma gli scienziati sono questi! Sono questi gli scienziati! Gli scienziati erano Fleming che andava a lavorare in bicicletta! Gli scienziati è stato Sabin! Sabin è morto nell'indifferenza! È morto l'anno scorso, Sabin ha fatto il vaccino dell'Appoglio, quest'uomo qua ha fatto il vaccino dell'Appoglio, poi ha detto, lo brevettiamo! E gli hanno detto, lo brevettiamo, guardi, può brevettarlo? Poteva diventare miliardario legalmente! Tutti i suoi diritti avevano! Ha detto, quanto ci vuole brevettarlo? 15 giorni! Potrebbe morire qualche bambino, per l'amor di Dio, diamolo all'umanità! È morto, non ce ne siamo neanche accorti, è venuto in Italia, è andato a un altro talk show, l'hanno preso anche per il culo perché ha detto, vi preoccupate per l'AIDS, i bambini muoiono più di orecchioni e di varicella, l'hanno preso in giro ed è morto scorso! Cioè, senza il minimo, lo sapevate che era morto? Qualcuno no! Cioè, i giganti della storia, li abbiamo allontanati così, ci siamo tornati... Gorbaccio! Che fine ha fatto Gorbaccio? Chi me lo sa dire che fine ha fatto? Un uomo che fino a tre anni aveva cambiato da solo il mondo, lui e la sua voglia di Coca-Cola qui, dove è andata a finire? È venuto in Italia, chi l'ha ricevuto? Ciampi era inaugurare l'appunto! Eh, non mi viene una parolaccia, ma non la dico, pensatela voi, quella che volete. Lui l'ha ricevuto, è stato ricevuto, Gorbaccio, dal sottosegretario di un festival dell'unità di Modena che gli ha dato della piadina, un po' di lambrusco e lui che diceva, di Brovnowski, Skoskaya, dove sono capitati? Cioè, ci siamo... i giganti della storia, li abbiamo fatto fare una fine pazzesca e ci siamo tenuti questi qui, i nani, i gobi, abbiamo ancora questo qui, che adesso si è... lo minaccia la mafia, ha detto Androtti, praticamente si è auto-minacciato, ma stiamo aspettando... ma cazzo, ma vuoi? Ma per fermi? Ma perché? Perché devono sempre morire i migliori, come Ligio? Perché il giorno che moriranno Androtti finalmente gli toglieranno la scatola nera dalla gobba e finalmente sapremo! Sapremo com'è andata a finire, Dio mio! Ma cosa ti inventi qua? Dai, cosa ti inventi? La mafia! Lui è stato il mandante dell'omicidio pecorale e ci credete! Può darsi, magari lui non l'ha mai saputo, perché la mafia ha un linguaggio che non la puoi controllare! La mafia, il mafioso l'avete visto, no? Totorina ha detto un curto! Ma te ne immagini quelli lì che fanno esplodere Falcone? Totorina ha detto un curto che, coi meccanismi elettronici che parla con Di Paola ha detto un licantropo, che dicono allora, uled, uled è acceso! Quando arriva il balcone? Uled! Ma che mi ingesto uled? Ve l'immaginate! Lì c'erano degli ingegneri, non dei mafiosi! E lo vede il linguaggio! Totorina è il linguaggio, si sono parlati, si sono parlati lui e l'altro e Totorina ha una sua moralità, eh? Gli ha detto io non ci parlo con te che sei immorale e ho avuto più di due mogli! Lui che strozzava i bambini all'asilo, perché lui strozzava per una questione culturale, come tutti i violenti, avendo 40 vocaboli, se hai la proprietà del linguaggio vai avanti, ma se ti manca la parola poi strozzi! Ma lui ha una sua moralità! Non so se avete visto i processi della mafia, c'era il Presidente che diceva, Michele Greco ha detto il Papa, lei è imputato di 115 omicidi, cosa ha da dire? È tutta invidia, signor Presidente, è tutta invidia! Ma vi ricordate come terrorizzavano i giudici con le parole semplici? Gli diceva questo Michele Greco, signor giudice, la stima che ci lega la mia famiglia con la sua, il giudice è la mia famiglia! E lui diceva sì, la signora lei è la sua moglie e sua figlia Elisabetta, che esce, che va alle Orsoline, esce tutti i mercoledì a mezzogiorno, tranne il lunedì che esce alle 11 e mezzo, quindi questo giudice qua ha detto vada! Lì terrorizzavano il dialogo, le parole, il mafioso non dice vai a uccidere quello là, il mafioso dice aia collo là! Come fai a mettere in galera uno così? E Andreotti ha una cena con gli amici, perché Andreotti non ha degli amici, ha dei vizi! Saranno mica amici, poi si sbardella, si scharrapico, Gaspari, non mi rombo i coglioni, quelli lì non sono amici, io non andrei mai in casa a bere, ma vabbè anche una minerale, è vero? Lui c'ha questi vizi e magari a una cena così avrà detto questo pecorelli è un po' maleducato, c'era un mafioso e te l'ho aggiunto io, è andato là e l'ha fatto secco! Ma lui non voleva! E allora noi pensiamo che la mafia sia questa, ma la mafia non è questa con la mafia, magari parla tre lingue! E si è evoluta! La mafia è un'altra cosa! Le banche! Hanno banche! Ah no, ci sono questi personaggi strani, strani, ora io non vorrei abbinarli alla mafia perché non mi permettono di dire queste cose, ma prostrani, occulti, ce n'è uno che vorrei farvelo vedere, questo qui si chiama Cuccia! Cuccia! Cuccia è uno, è sempre così, con i giornali che cammina così, così come se cercasse dei soldi per terra, non si sa niente, non ha cariche, è presidente della regione della Mediobanca, ma dove c'è un casino di miliardi di fallimenti, di casini, c'è lui! I suoi nemici erano! Mattei che è atterrato violentemente e non se ne è più saputo niente, Calvi che ha bevuto un caffè talmente lungo che si è allungato anche lui! Sindona si è fatto un nodo in un posto incredibile! Gardini e quello dell'Eni, Cagliari che si è soffocato con un sacchetto di plastica e poi dicono che la plastica non fa male! Allora, questi qui erano i suoi nemici, ora io spero di non stargli tanto sulle balle perché vorrei andare anche ancora avanti, ma è tutta gente che non si conosce! Privatizziamo, Privatizziamo le banche! Privatizziamo il credito! Professor Uckmar, lei è qui! Privatizziamo il credito con cosa? C'è gente che compra i bot, che è un debito dello Stato, perché noi abbiamo un miliardo, un milione, settecentocinquantamila miliardi! Non sappiamo neanche scriverlo! Un milione, settecentocinquantamila miliardi! E ce l'abbiamo tra l'attività! Cioè, lo Stato emette un debito e lo mette tra l'attività! Siamo le unici al mondo! È come se tu vai in banca e dici, mi presta 300 milioni, che garanzia mi dà? Devo mezzo miliardo a quello là! Va bene, eccoli! E ti dai soldi! Compriamo un debito per acquistare un credito! Ma dove? Cosa sta succedendo? Ma ci sono delle altre cose! Cerchiamo i socialisti che rubano, ci avventiamo sui cirini pomicini per 10, 30, 40 miliardi, mille miliardi! E ne stiamo pagando un casino! Come? Normalmente! Normalmente! Con cosa? Florin, se ora il B! Questa è una multinazionale che si chiama Gillette! La Gillette ultimamente ha assorbito la ditta Tampa, che è una ditta di assorbenti! Ve lo giuro, sembrano cose inventate, ma assorbire una ditta di assorbenti è il massimo della cattiveria! Ma no, è vera! Sembra inventata, ma è vera! Forse vorranno fare il primo assorbente Bilama, essendo la Gillette! Mentre lo inserisci e ti depini! Sai, ci sono degli scienziati che lavorano per questo! Florin! C'è tutte queste multinazionali! Io voglio tornare al signore Invernici, quello che faceva i formaggi! Io voglio capire chi finaggia i 3.000, 4.000 miliardi! Sono i 10.000 miliardi di tangenti! Sono soldi nostri! Io voglio sapere se Cragnotti è un delinquente, voglio saperlo! Lo giudicheranno i giudici! Se è un delinquente io voglio sapere cosa vende! Se vende l'ala Zignago, che è il latte, io devo essere libero di saperlo e se voglio lo compro o no! Allora sul latte ci deve essere la foto di Cragnotti, la faccia di Cragnotti e io vado a votarlo! Entro in un supermercato, ci metto una croce sopra e non lo compro più! Ma perché devo comprare l'acqua minerale di ciarrapico che mi fa schifo? lui! Perché devo… la ditta alimentare più grande del mondo qual'è? Bevo! Tanto pensateci! La ditta alimentare… la ditta alimentare più grande del mondo qual'è? Ve la faccio vedere io qual'è? Fa queste due cose! E la Philip Morris da una parte… e la differenza fra queste due cose qual'è? Qual'è la differenza fra queste due cose? Eh? Che queste sono senza filtro! Cioè vi sembra possibile che la stessa azienda da una parte ti dà una cosa che ti fa venire un cancreto a norma di legge? Perché… tu fumi quando la nicotina va giù e il polmone chiede… senta, lei è a norma di legge? Sì, allora entra nei buchi di qua che è più sano! La stessa ditta fa questo e fa cose buone dal mondo! Qui fila i fondi sulla tegame, qui fila i fondi nei polmoni… è la stessa cosa! Io voglio che in un paese civile si agisca… scusatemi queste parolone… come negli altri paesi non di più! Se facciamo pubblicità alle Malboro in tutto il mondo sotto la parola Malboro ci deve essere scritto il fumo nuoce gravemente alla salute! Porca puttana! Da noi cosa c'è scritto? Malboro, viaggi del tucano! Ma cos'è? E' morto di cancro! Lui è il cavallo! E allora… io non sono contro il fumo, per l'amor di Dio! Io sono contro la craccia che va nelle scuole a insegnare ambiente ed educazione e la stessa ditta fa iniziare al fumo un bambino di 14 anni! La stessa! Ecco dov'è, per conto mio, il lato marcio di questo! Voglio un'economia più sana! Questo qui è il Florinse! Vi faccio vedere come ci acchiappano il grano! Florinse! E' un colluttorio! Ora, io che sono di Genova, pagare una roba così tanto che la devi anche sputare… non mi va giù! Non mi va giù! Lo prendiamo in farmacia e ho detto perché deve costare così tanto? Cosa c'è dentro? Vediamo un po'! Se costa così ci sarà qualche cosa dentro! Composizione! Vi giuro, non mi invento niente! Vorrei farvelo vedere in quadrato, ma è scritto piccolo! Composizione c'è scritto! E' bellissimo! Contiene 0,05% di fluoruro di sodio! Ho detto chissà, chissà cosa costerà il fluoruro di sodio! Ho chiamato, giuro, un mio amico chimico e dico quanto costa? Mille lire al chilo! No, parca! Mille lire al chilo! Però c'è, disciolto in soluzione acquosa! Ho detto, sarà la soluzione acquosa che costa, no? Ho detto che cos'è la soluzione acquosa? Ho detto che è la soluzione che esce girando? Una soluzione di rubinetto! Poi c'è un po' di colorante e poi c'è, fermi! E poi c'è! E poi c'è del dolcificante perché dato che non ha il tappo di sicurezza col dolcificante e dato che il fluoruro è tossico, i bambini riescono a buttarlo giù meglio! Comprato in una farmacia a Roma, arriva dall'Irlanda! Allora dico perché lo devo pagare così? Vado, è un colluttore, ho cavo orale, vado dal mio dentista e dico, senti un po', tu che sei un dottore, lui è rimasto... Ah sì, 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 perché non se l'ha aspettato! Perché? Perché? Perché se sei un dottore non mi fai una ricetta, mi vieni un po' incontro, mi fai una ricetta e mi metti giro, virgola giro di fluoruro, disciolto nell'acqua, con la tua ricetta io vado in farmacia e finalmente il farmacista farà il lavoro del farmacista che è quello di fare un farmaco, non di spacciare ciclette, creme abbronzanti e preservativi del cazzo alla fragola, va bene? Allora, farà la ricetta, quanto l'avremo pagato? Quanto l'avremo pagato? Il tempo del farmacista, hanno un tabulato, ci vuole un minuto e mezzo, abbiamo controllato questo, sarebbe costato 1200 lire, sapete quanto costa? 16.500 lire al litro, il barolo del 71, 14,8. e noi cerchiamo i socialisti, noi compriamo queste cose, siamo noi i socialisti di noi stessi, noi abbiamo questo tipo di cosa qui, di economia, io sono stufo di questa economia che non riesco più a capire, è possibile che tutto quello che si produce, per chi lo produce economico, per me no? Ma vi sembrano male che noi dobbiamo fare una vita da bestie per le macchine, la vita da bestie, vai, vai, l'appunto, la mettono in tutti i posti incredibili, negli aeroporti, nelle stazioni, sono entrati in casa di un mio amico e ci ho l'appunto messa così, tranne che nelle strade, perché nelle strade non ci sono più, e allora io voglio sapere perché si producono queste cose, che non ci servono più, ma stiamo mica scherzando, il lavoro, ma Dio mio, in Germania, hanno votato una legge, l'hanno firmata stasera, dove lavorano un giorno di meno, e noi pensiamo, ma la soluzione è quale? È lavorare un po' di meno, oppure il part time, in Olanda c'è già, nel ramo assicurazioni in Olanda lavorano il 50%, in part time, uno se vuole lavorare di più, lavora di più, un altro di meno, di meno, se una ditta fa cabriolet lavorerà un po' più di estate, un po' meno di inverno, abbiamo l'obbligo di migliorarcela la vita, io non posso più sentire che uno si suicida perché non ha lavoro, non ci voglio credere che andiamo nel terzo millennio pensando un commercialista si è ucciso perché non capiva un 740, il terzo millennio, lo affrontiamo come nell'anno 1000, nell'anno 1000 credevano che finisse il mondo lì e sono andati nel medioevo, io il lavoro lo concepisco in un altro modo, ma Dio mio, ma cos'è? Bevo, cos'è? Ma mille anni fa c'era uno con una palletta, lavorava dieci ore, faceva un'era, metto di pane, adesso al trattore fa una tonnellata di pane ma lavora sempre dieci ore, io non riesco a capire, io voglio migliorarmelo, mi dispiace che la Fiat vada in cassa integrazione, ma io non posso comprarmi 25 punto, mi dispiace, è solo da portare via, da mandare via questa gente qua, da votare l'imprenditore, ecco perché sono contento che è venuto fuori Berlusconi, lo voglio andare a votare, voglio votare Agnelli, io vi faccio vedere un documento, dove, Agnelli, è l'anniversario, Agnelli me lo puoi inquadrare, guarda, lo leggete qua, c'è scritto Agnelli, elogiava l'ozio, Agnelli elogiava l'ozio, il nonno, 60 anni fa, questo metto qui, questi erano imprenditori, si scriveva con in audio e diceva non potremmo riportare le ore a 30 ore settimanali, nel 1933 che c'era la crisi dell'auto, questi qui non l'hanno neanche, non l'hanno neanche accusato il colpo, questo Agnelli qui, questo che sembra Tutankamon, Dio mio, che se li tiri 100 lire lì si piantano qua, non escono più, ma questo qui non è un imprenditore che dice, dieci giorni fa diceva la crisi ne usciremo nel 94 all'inizio, adesso è già nel 96, ma diamogli un night, due in tre neri, su una barca, ma andiamolo via, non sono imprenditori, gli imprenditori, gli imprenditori devono pensare anche un po' alla gente, come era suo nonno, io voglio uno come suo nonno, Romiti questo, il manager, fa il manager col grano degli altri, la Fiat è entrata nel segmento B, il segmento B partiva dal basso di Romiti e entrava nel basso degli operai, va bene? Segmento B, la Fiat 500, sai che ha mai fatto la Fiat 500? Perché vogliono il lavoro, no? E' facile fare gli imprenditori col grano degli altri, loro vogliono, in nome del lavoro hanno causato dei danni in commensura, hanno fatto fare la 500 in Polonia, ne avete più sentito parlare? Ve lo dico io cosa è successo, che gli operai polacchi hanno visto la 500 e hanno detto questo è il capitalismo, sono andati a votare e si sono rivotati il comunismo, 500 ne hanno venduta una, l'ha comprata Gino Paoli e si è data l'alcol, la pude, l'induce automobilismo, ma perché mi devi vendere una macchina? Io voglio, qual'è secondo voi la macchina del futuro? Ci cambierebbe la vita sì o no uno che fa macchine? Se ci dessero una macchina elettrica cambierebbe la sua vita sì o no? Che ci sia Ciampi o no? Non me ne frega niente che ci sia una macchina elettrica cambierebbe la mia vita! E come la cambierebbe? La macchina del futuro, sono un po' troppo eh? No 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 dico solo un po' troppo perché scherzo! Aspetta! No! Fatemi dei segni! Se divento messia, fatemi un gesto e mi metto subito questo! Va bene? Me lo tengo in tasca perché nel voto mi faccio prendere il terzo potere sai! Aprite le finestre e gridate cacchio! Dio mio! Le macchine! Fanno le macchine! Fanno le macchine di due tonnellate, super sicure, con due airbag, diciotto valvole, due tonnellate, doppio airbag, cinture, pretensionate, sicose, super trains! Sei sicuro se hai 150 milioni da comprati questa macchina qui? Cioè sei sicuro se sei in quella macchina lì? Ma se sei nell'altra dove va a cozzare quella lì che è un bulldogger? Allora voglio dire, la sicurezza è il si salvi chi può! E allora cazzo, scusate se dico, ora mi intervono! Allora l'airbag, l'avete capito che è un pacco? È un grande pacco! L'airbag tende a salvaguardare la vita del cliente, non ti fa dimezzare gli incidenti perché agisce quando già hai avuto l'incidente, ma serve a salvare una vita ogni tanto! Vogliamo risparmiare 4.000 morti all'anno? 4.000? Due righe! Ecco perché non eliminerei tutti i politici, perché la politica può cambiare due righe! Non si fanno e non si fabbricano più automobili che fanno oltre i 130 l'ora! Perché ci, fermi, c'è la legge, no? No, perché le fanno due vedi, perché l'indotto, sempre per il lavoro! Non possiamo più comprare le cose che non ci sono utili! Io mio! L'airbag, le cose, la macchina, le robe, io il lavoro cosa è diventato amici? Abbiate pazienza, il lavoro, uno dovrebbe lavorare tre ore e poi stare un po' a casa, stare un po' con la sua famiglia, ci dobbiamo solo migliorare la vita, non è possibile! Il lavoro invece è cambiato, ha preso il posto del tuo tempo libero! Sul lavoro conosci, fai amicizie, ti fidanzi, si toccano molestie sull'ambito del lavoro, lui tocca a lei, lei tocca a lui, sulle scrivanie, arriva il capufficio, tutto lì! Poi esci, vai in vacanza e non conosci nessuno! I ragazzi vanno in disco, ci ammazziamo nei weekend, prendiamo fuoco nei weekend, i ragazzi vanno a ballare, questa musica pazzesca alle donne gliela fanno un attimo vedere, ma non gliela danno, escono, vedono il primo paracaro e ci si desintegrano! Perché il lavoro cos'è diventato? La prima funzione del lavoro oggi è quella di limitarti i danni che ti fai nel tempo libero! Ma cos'è? Ma basta, Dio mio! Basta, c'è la tecnica, ci fanno andare con le targhe pari e dispari, è vero? Ci hanno preso per il culo, sì o no! Pari e dispari! Non è successo niente perché chi ha la targa pari e quel giorno possono uscire pari, esso è lo stesso! Anche se non sa dove andare, dove vai? Non lo so, era pari, tutti in coro! Ci prendono per il culo con le centraline! Con le centraline! Acchiappano lo smog a due metri e venti, quindi i bambini e i sardi sono rovinati perché è 50 volte superiore! Hai capito? E allora cos'è? Allora voglio dirvi, c'è la tecnologia, non la tirano fuori! Non la tirano fuori, amici! C'è! C'è un congenietto da 400 mila lire che aveva fatto la Volkswagen, Eco Polo, che monta adesso la Golf, la Eco Golf! È un congenietto che quando ti fermi con la macchina a un semaforo o sei in coda, stacca il motore! Sarà stupido consumare benzina da fermi! Sono 5 mila miliardi, eh! Tra il tempo che stai lì, la coda, sai cosa ha detto Romiti sulla coda? Ha detto che stare in coda, in fondo, è un momento un po' per stare con la tua famiglia! Ma c'è gente che la stermina la famiglia in coda! E allora siamo... voglio dire, c'è questo congenietto che ti stacca... Non l'abbiamo voluto! Anche noi abbiamo delle belle teste perché hanno fatto delle prove e quello che gli si spegne la macchina rispetto a quello che arriva... Vum! 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 Si sente castrato! Perché vuol fare... Vum! 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 Bisognerebbe mettergli una cassettina con rumore... Vum! Vum! Dio mio! Il lavoro! Ma cos'è? Ma devi fare le cose e le tangenti, non sappiamo più farle... Io voglio veramente che le cose prodotte siano convenienti per me che le compro... Non è più così! Io non sono... Arrabbiato per la politica, l'economia... Io credo... Che entriamo in una fase molto pericolosa di avvilimento! Guardatevi un po'... Io ho girato un po' per Roma, ma Milano è lo stesso! Cammini per la sala, come va? Ma guarda, ma rompi le palle! Siamo avviliti! Perché le cose che usiamo... Le cose sono fatte in un altro modo! Le cose che usiamo tutti i giorni! Per esempio, se io devo prendere una saliera... La funzione di un salino, qual è? Ditemi qual è l'unica funzione che dovrebbe avere un salino! Qual è? Che quando lo rovesse esca il sale! Esce di tutto! Riso, mosche, formiche! Il pepe come fai così! Non hanno più la funzione originale! La gente che costruisce queste robe... Il sapone, una volta abbiamo il sapone, adesso c'è questo che schiacci... Il sapone va dall'altra parte! Una... Una lattiera! La funzione di una lattiera è versare un liquido in un'altra cosa! La funzione... In un contenitore, no? È questa la funzione, è costruita apposta! Ti tocca, ti tocca prenderla con la mano, farla scivolare nel gomito e riempirti il bicchiere! E il bicchiere è quadrato! E fanno il bicchiere quadrato! Che se non hai avuto due ictus da una parte dell'altra, non riesci a bere! E allora a mezzogiorno che hai usato queste cose, sei già incazzato come una besta e non fai per te! Dio mio, noi dobbiamo lavorare di più e produrre di più per comprarci queste cose qui che non sono fatte più per esserci utili! Scusate un po', rompo un tergicristale! Sarà successo tutto il gommino! Rompo il gommino! Vado dal distributore e dico, buongiorno, giura, vera, eh! Dico, buongiorno, guardi, ho rotto il gommino, mi dà un gommino! Dico, abbia pazienza, ho rotto solo questo, io... Se vuole mi do due martellate sul costo, no! Cosa dovevo dire? Questo qui mi ha detto, voi comici venite a prendere per il culo noi che lavoriamo! Ma no, ho rotto questo, vabbè, mi dia tutto il tergicristallo! Uno, due le dobbiamo, due! 40.000 lire ho dovuto comprare, perché li vendono a due a due! Allora ho dovuto spendere 40 sacchi, 40.000 lire, per un gommino da 1.000 lire! Mi tocca lavorare un giorno di più, perché anche le cose che compro non le trovo! Ma cazzo, lo specchietto, avete mai rotto uno specchietto? Lo specchietto, cosa ti cambiano? Lo specchietto ti cambiano tutto il braccio elettrico, il piantone della macchina, il seggiolino e il passeggero se li sta sulle balle! E allora dici, ma dove le faranno queste cose, amici? Dove le faranno? Dove le faranno? Questo qui da 1.000 lire, sapete dove l'ho trovato io? In Svizzera! Dove sono miliardari, proprio perché hanno un gommino da 1.000 lire! E allora noi facciamo queste cose per buttarle via, per rifarle. Io ho un orologio, ho un orologio giapponese, che è programmato il cinturino per rompersi dopo 80 volte che lo piegono. È la cosa più precisa dell'orologio. Noi viviamo immersi in questa economia veramente disastrosa. Va bene? Allora, noi prendiamo e buttiamo via le stesse cose. Lo spazzolino. Prendi e butti via. È il prodotto interno lordo, amici. Il prodotto interno lordo è la ricchezza del nostro paese. Se non ci dicono che almeno è aumentato di due punti, dovremmo suicidarci tutti. Invece dovremmo gioire. Perché se noi con le tangenti avessimo fatto un ponte che è crollato, l'avessimo fatto meglio? Vi faccio una domanda. Un ponte che crolla. Quando un ponte crolla, siamo più ricchi o più poveri? Rispondete. Rispondete. Siamo più ricchi o più poveri? Più poveri. Però si ricostruisce e il prodotto interno lordo va su. Perché il ponte è stato fatto perché deve crollare. Le strade sono state fatte. I costruttori hanno costruito per 50 anni. Non hanno costruito. Hanno spacciato dei lavori per avere la manutenzione. Hanno fatto degli asfalti che si sbriciolavano dopo due mesi. Perché se no non si spiegherebbe. Non si spiegherebbe che apri onda verde a 5 anni, che tra Ronco, Milaccio e Barberino del Mugello c'è un lavoro in corto, porca puttana. Fa bene? Allora noi facciamo queste cose per rifarli. E il prodotto interno va su, va su e noi siamo più poveri. Metà del nostro prodotto interno, della nostra ricchezza, sono sfighe. Se togliessimo le sfighe avremmo un prodotto interno lordo degli anni 80. Ed è quello che ci siamo svegliati adesso da questo sogno. Abbiamo vissuto così. Prendendo una cosa e buttarla via. Per andarla a ricoperare ti tocca lavorare di più. Gli operai della FIA devono lavorare di più. Fare il terzo turno di notte. Evita! Uno si alza di notte e va a fare il terzo turno. Uno di notte o dorme, o dà un colpettino a sua moglie che è anni che non la tocca più. Invece deve fare queste cose per comprare uno spazzolino dieci volte. Lo butti via e lo rifai. È come se tu, scusate il sudore, è come se tu sei seduto in casa, no? Sei seduto in casa e a un certo momento il vetro di casa tua del, non so, del salotto si sbriciola. Un casino, pum! C'è un mattone, c'è un foglietto, vai a leggere il foglietto, c'è scritto, qualcuno ti ha rotto il vetro? Telefona la nostra dita e te lo ripariamo subito. Facciamo quel video. E noi buttiamo via le cose per rifarle, va bene? E le rifacciamo sempre così. Lo spazzolino, addirittura questo spazzolino, lo devi buttare via perché ti avvisa lo spazzolino. Quelli che l'hanno costruiti sono gentilissimi. Quando devi buttarlo via ti avvisano perché si decolora. Che gentili che sono, no? Rischiavi di usarlo magari una mezz'oretta di più. Non vogliono, non vogliono. Allora prendi e butti via. Butti via. E quando butti via, quando buttiamo via, noi non ci interessa più. Buttiamo via, qualcuno ci pensa. Chi lo sa, chi sarà. Non mi interessa, non è mica più mio, l'ho buttato via. E' un po' quando il tuo cane fa la cacca. Non so, qualcuno di voi ha il cane. Eh? Si sarà reso conto, ecco, come lei mi fa di sì. Si è reso conto che i cani, scusate se sfondo questo ambiente, ma questo argomento, ma ci sono dei miliardi che girano attorno, la cacca del cane. Si è d'accordo. Ha notato che è diversa. No, proprio dieci anni fa mangiava le cose che gli davi da mangiare te, quello che avanzavi tu. Adesso quello che avanzi tu, lo portano a mille chilometri, ti costa l'ira di Dio. E a loro gli dai queste robe, tipo ciappi, ciappi, fico, ciappi, ciappi. Per me diventano dei tossici, non so se sei una cosa. Come vedono, c'è il mio gatto che c'era un branzino, ha fatto, vado via, è venuto lì con la zampa, ti seguo. e quindi non fanno più una cacca normale. Quindi quando mangiavano quello che mangiavi te, dopo due giorni che facevano la cacca, facevi così, si sbriciolava e faceva parte del tutto. Adesso vai lì dopo sei mesi, fai così, è vivo, pulsa, ti segue. I cani non sono più amici dell'uomo, sono fabbricatori di merda i cani. A Roma camminano così, sembrano la fracci. E allora, quando tu fai, quando il tuo cane fa la cacca, cosa abbiamo fatto noi? non abbiamo accorciato il guinzaglio, cioè non abbiamo accorciato la paletta, abbiamo allungato il guinzaglio. Così tu stai a 50 metri e il tuo cane fa uno stronzo di 5 kg. Di chi è? Non lo so, io stavo parlando a 50 metri, è della società. Va bene? E noi ce ne dividiamo un grammo a testa, è vero che è così? E allora noi buttiamo via questo, e chi se ne frega, bevo, neanche Bruce Springsteen suda così. Bevo, e allora noi buttiamo via questo, che chi se ne frega, sono 10 grammi di plastica, ma la plastica si fa col petrolio. 10 grammi, butti via. Se moltiplichiamo 50 milioni di spazzolini, è già una petroliera piccola. E la buttiamo via. Questo qui va in un fornetto, questa plastica qui, nel PVC c'è il cloruro, e a 650 gradi, il cloruro reagisce, perché non è un vigliacco, reagisce. e diventa diossina, che non è una bestemmia, è un gas. e la diossina va in cielo, e c'è l'aria che la trasporta per i prati, i campi, i mari, va sull'oceano, piove, la diossina va in mare, in mare c'è il planto, in pesi mangiano il planto, tu vai al ristorante, spendi 80 mila lire per un branzino, e ti sei mangiato il tuo cazzo di spazzolini. E allora è così, e allora io, scusate, allora la tecnica, allora io non devo lavorare di più, non posso, io voglio, voglio lavarmi i denti, con uno spazzolino, concepito, e costruito in un altro modo, ci sarà, abbiamo la tecnica, abbiamo Rubia, Rubia adesso chissà cosa ha scoperto, io non ci credo quello lì, abbiate paziente, lui si aggirava al cerne, il cerne aveva bisogno di finanziamenti, probabilmente si aggirava lì, e uno gli ha detto, cosa fai lì? Come cosa faccio? Ho scoperto un'altra, una roba, e si è giustificato perché era lì, e come la levi molto al cilindro, mi piace, deve aver inventato una nuova molecola di lacca, perché ha dei capelli che, ma neanche Moirò, sei dei tipici, è una scienza che mi, ho qualche dubbio io, solo dubbi, va bene, allora la tecnica c'è, facciamo un altro spazzolino fatto di un altro modo, per lavorare un po' meno, per non comprarne 10 all'anno, c'è, sì che c'è, dove l'ho comperato in Svizzera, ecco perché sono tutti miliardari in Svizzera, perché lo spazzolino lo fanno così, ogni due mesi non buttano via tutto, ogni due mesi quando è consumato, staccano qui, tengono questo, e buttano via questo, non ve l'aspettavate questo? vado a vedere la marca, Monte Bianco, Made in Italy, lo facciamo noi, e lo diamo agli Svizzeri, pensa come siamo, una cosa geniale, abbiamo la tecnica, e non sappiamo usarla, questa è tecnica, questa qua, è la scienza, siamo arrivati a questo, perché prima per telefonare, avevamo i gettoni, i gettoni ti danno fastidio, c'è la tecnica, la tecnologia, è questo, i gettoni basta, pesano, è vecchiume, per telefonare c'è questo, ma ogni 5 mila lire, la butti via, e di nuovo lo spazzolino, che va nel fornetto, reagisce, va nel coso, va nel branzino, mangi una bistecca, quella la freghi, ma è sempre così, la tecnologia è questa, parliamo dell'Europa, e non sappiamo niente, hanno ratificato il trattato di Maastricht, i tedeschi, hanno finalmente sancito l'entrata dell'Europa in Germania, in Germania, questa è difficile, non ci penso, è rimasto troppo veloce, l'Europa, in Francia, Germania, hanno una di queste, non è una roba che butti via dopo 5 mila lire, hanno questa qui, questa tessera qui, che usano per tutto e non la cambiano più, la usano per telefonare, per andare in banca, per pagare, c'è un bit, che è un'informazione, il bit, che dice che tu sei tu, questa qui deve dire, che tu sei tu e basta, eviti di andare davanti a un notaio, che ti dice lei e lei, mi dia 500 mila lire, anche lei e lei, mi ridia i soldi indietro, che c'è questo, questa è la grande, è la tecnologia, perché la tecnologia, la tecnologia, se nessuno lo sa usare, o se lo usano in pochi, non è tecnologia, non vedete come ci fanno impazzire, ti vendono un computer, De Benedetti, dovrebbe farlo, non è l'ultimo degli imbecilli, quell'uomo, dovrebbe darci un computer, ti danno un computer, che costa 3 milioni, chi è che usa il computer qua, per piacere, ecco, quante funzioni usi di un computer, un computer mediamente, 500 funzioni, quante ne usi? 5, ma lo paghi 3 milioni, non te lo fanno da 5 funzioni, da 300 mila lire, lo paghi 3 milioni, con 1000 funzioni, che non userai mai, poi come l'hai comprato, c'è il modello nuovo, la tastiera è uguale, lasciami la tastiera, mi cambiano anche la tastiera, noi viviamo, compri una macchina, perché io devo comprare una macchina, con l'accendisigari, se non fumo? Perché c'è l'orologio, ce l'ho già l'orologio, ecco cos'è, la tecnologia, la tecnologia cos'è, Casio ti semplifica la vita, Casio ti semplifica la vita, guarda cosa ti dà, che per usare questo apparecchio qui, dov'è? Per usare questo apparecchio qui, ci vuole un libretto di istruzioni di 8 kg, cosa ti semplifica la vita, che non riusciamo neanche a fare, a un registratore, a registrare una trasmissione, e play, tutto è in inglese, plinchi, temprani, ci vogliono delle dittine da giapponesi, e cosa? Fateci due manopole, porca puttana, una, alz, e spada! Allora, e finché l'economia, l'economia non diventerà, gli imprenditori non avranno un po' di cuore, non usciremo da questa cosa qua, hai capito? non ne usciremo più, la tecnologia, ma cosa? La tecnologia cos'è? Il quizzi? La televisione interattiva, per interagire con la cervello di mai buongiorno? Ma basta un fisto per interagire con quel cervello lì! Allora, cos'è? Dio mio, cos'è? Siete contenti? Finiamo? Quanto manca? Siamo alla fine, siamo alla fine, vi lascio con una cosa, la tecnica, guardate com'è, guardate come noi cerchiamo i socialisti, i sirini pomicini, guarda questo, questo è un telefonino, tra un po' faranno, non compratene più, fatemi cortesia, perché tra un po' uscirà l'europeo, e quello che avrei pagato 2 milioni, costerà 300 mila lire, fanno così, fermiamoci un po', stiamo a vederli, finché arriverà un imprenditore, che guadagnerà lui, e farà guadagnare qualche cosa anche a te, un po' di buon senso, la pila di questo telefono costa 150 mila lire, la cambio ogni anno, la butti via, è vero? perché si chiama packaging, packaging, perché dentro c'è tutta la tecnologia nipponica, perché ci sono i bit, ci costa 150 mila lire, perché chissà cosa c'è dentro, mia caduta, se no non l'avrai mai aperta, di mia spontanea volontà, cosa c'è dentro, 150 mila lire, la macro ingegneria, 5 pilette da 2 mila lire, da 12 mila, ciao a tutti, grazie a tutti 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 Sono inquieto, mi sento perché adesso i ladri non ci sono più, i ladri sono Cirino Pomicino che ha preso 5 miliardi ma li ha presi in bot, cioè era lui il ministro del tesoro, si è emesso i bot e adesso che sono pezzi di carta gli li hanno pagati con i pezzi di carta, li sono ritornati indietro, non ho mai avuto una lira, Poggiolini aveva i lingotti, questo qui aveva dei pezzi di carta. I bot, ecco perché non li tassavano, ma parliamo di queste cose qui, ma vai per le strade, elezioni, c'è gente che si parla in una maniera, c'è uno che dice mi piace quel candidato lì, il candidato dice fatti i cazzi tuoi, un altro vorrei votare quello ti mando in galera, ma cosa si sono rovesciati tutti i coni? Certo, adesso i ladri non ci sono più, stanno andando al potere, stanno andando al potere la gente, mi fa più paura, questi qui che si gridano uno con l'altro, io ti faccio gli ospedali! Quell'altro se voti me ti faccio gli asili nido! Se quello gli fa gli asili nido li stupra i bambini, uno con gli ospedali! Ma stiamo scherzando, ma cosa sta diventando? Io veramente non riesco più a capire che tipo di realtà, il tipo di realtà, e parliamo ancora degli 007 deviati, e questa qui Monti, il generale, questa che è uscita di galera, come si chiama? De Rosa! Questa, eh? Quella di Mucchitto, cioè, Mucchitto! Questa qui che parla e fa riesumare una salma, la tirano su, la tirano giù, la tirano su, la tirano giù! Poi c'era anche la salma di Lenin, commentata da Fraiese, poi non sapevi più chi era la salma delle tre, con Fraiese, e qui e là, Mucchitto, un generale Mucchitto, e Monticone, quello che era il generale che dovrebbe proteggerci in caso di Casini, era un paracadutista! Monticone, che ha dato 700 milioni a questa qui, e non gli ha dato neanche un colpettino! Ma bisogna mandarlo via perché è scemo uno così, no perché fa il golpe! Ma sono cose da prendere sul serio, un generale dei Carabinieri, Delfino, Delfino, a me, pensa che bevo! Ho delle cose stasera stupende! Delfino, mi sembra, il generale, che aveva infiltrato, vi ricordate la luce? Aveva infiltrato uno, uno dell'andrangheta, nelle BR! Le BR sono di Milano, quelato! Questo qui ha detto, ma che minchia sta facendo? L'hanno scoperto dopo 30 secondi! Ma come fai a prendere sul serio queste cose qui? Come fai a prendere sul serio? Gen, 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 i servizi segreti c'era gen, Gennarino o spione che era quello che ci metteva le bombe nel treno per poi telefonare e prendeva un milione e mezzo a bomba e ce le metteva lui! Come fai a prendere sul serio queste cose qui? Il PDS implicato che denuncia tutti... Ma chi aveva di implicato nelle tangentopoli il PDS? C'era! Pollini, Pollini, Pollastrini, il Occhetto e il Conto Gabbietta! Ma neanche Walt Disney che si fa una pera potrebbe immaginarci una cosa così! Come fai a creare? La realtà ci sta fuggendo! Ma è vero o no? No! Ma come fai Osman? Ma giù, ma basta che apri il giornale! E questo qui, le tangenti, questo come si chiama? Citarristi! Non sa neanche quante avvisi di garanzia devo controllare! C'è una calcolatrice perché si vede che i magistrati quando ne avanzano due di avvisi quanti ne sono? Mandano le citarristi, mandano! Ma come fai a immaginarti uno come greganti? Straordinario greganti! E quello che lo prendevano, lo mettevano dentro, lo prendevano dentro... Alla terza volta è uscita e ha fatto una dichiarazione e ha detto hanno tentato di farmi perdere il buon umore! Ma no! Presidente del Consiglio! E dice Presidente del Consiglio! E Ciampi! Ciampi, il povero Ciampi! Che è andato in Germania a dire... E' andato da Kohl, no? L'avete visto, no? Tre giorni fa da Kohl era! C'era Kohl e lui che lo... C'era Kohl, sembrava la custodia di Ciampi C'era che apriva, si apriva, usciva Ciampi E' andata a minacciare la Germania Ha detto, la smettete sto Bundesbank? Il Marco? State attenti, eh? State attenti perché Verso la fine del 94 In Italia ci sarà La ripresina Ma lo capite che Noi stiamo a parlare di queste cose Delle 007, delle stragi di vent'anni fa E i tedeschi hanno fatto un piano energetico con il Giappone Di cento anni! Di cento anni! Noi non sappiamo cosa facciamo lunedì mattina Ma stiamo scherzando E che cose? E le fabbriche che chiudono Mi dispiace le fabbriche che chiudono Per l'amor di Dio Ma l'acciaio Le acciaierie Vi faccio una domanda Qualcuno in casa è senza coltelle e forchette Mi dovete rispondere seriamente Vi manca la coltelle e forchette? Hai mai? C'è andato in un negozio E hai chiesto Mi dà due forchette? Non ce l'abbiamo Manca l'acciaio Siamo pieni di acciaio L'ottomelara dà fuoco alla ferrovia L'ottomelara fa carri armati Alla Spezia Ora per farli lavorare Un carri armatino ce lo dobbiamo prendere Cosa devi fare? Magari bombardiamo Ci bombardiamo a vicenda Cosa devi fare? E allora E queste cose E abbiamo un giornalismo Che dovrei Non dovrei venire a dirle io queste cose Io faccio il comico Dovrebbero venire questi qui I giornalisti Questa gente Che ha l'ordine dei giornalisti L'ordine che quando parla L'ordine dei giornalisti Dicono Ah c'è un attacco Alla libertà E alla democrazia Quando gli tocchi la pensione Divendano pazzi Attacco alla democrazia I giornalisti E beh il giornalismo Stravolgono la lingua Se voi prendete un qualsiasi giornale Qualsiasi Aprite almeno tre titoli Cominciano per E Ma cosa significa? Per E Devi imparare l'Italia Non puoi cominciare E E Ciampi andò in Germania Ti viene un senso di inquietudine Perché dici Ma cosa ha fatto prima? È come andare al cinema A vedere il secondo te Bevo Stravolgono la lingua Cade un alpinista Scrivono Montagna assassino Non alpinista pirra Lo capite sì o no? Nebbia killer Il farmaco killer Il farmaco non è killer È killer Che ha composto un farmaco Con certi elementi Ha dato il grano a Poggiolini E l'ha fatto E ce l'ha fatto arrivare E sono È uscito il nome di un farmaco? Il nome? Le persone le inchiodano Se fai qualche cosa Ti mettono in prima pagina Inchiodato Te, la tua famiglia E i tuoi figli Un nome di un farmaco? Eh? È tutta norma di legge Tutta norma di legge Perché nessuno Va Va a fare le cose E abbiamo dei farmaci Che Tipo questo qua È di un'azienda di Padova Non dico no Perché mi hanno scritto Gli operai E mi ha messo In una situazione Comunque È un Un ganglioside È un ganglioside Che si chiama Cronazia Lo devo dire Non cambia pazienza Vabbè L'hanno ritirato In tutto il mondo In tutto il mondo È stato ritirato Qui il ministro Costa Forse era quello per bene Ve lo ricordate Il ministro Costa Quando era alla sanità Che si travestiva Si travestiva da paziente Entrava negli ospedali Oh Poi c'era Sono ministro Straordinario era Infatti L'aveva fatto ritirare il farmaco Lui dove è andato L'ha messo alle ferrovie Di un buco nero L'acqua Con gli operai E sono farmaci Che Nessuno Nessuno va in galera Nessuno Perché sono tutti a norma di legge Tu prendi questo farmaco E dietro ci sono le controindicazioni E poi dicono Che non lo testano Sulle animali Gli animalisti Non devono testarlo Sulle animali Lo testano su di noi Basta che leggi Le controindicazioni C'è scritto Secchezza delle fauci Le fauci Io sono la bestia Hai capito Siamo noi le bestie Ma noi c'è da ridere Guarda Questo qui c'è scritto Vi giuro Si chiama Indoxan Credo che sia Un antinfiammatorio C'è scritto A volte Cioè raramente 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 Ha decorso fatale Raramente Tu lo prendi Dici vabbè tanto è raramente Speriamo che sia un altro Un altro Porca putta un altro Questo qui è il mobile Qui c'è scritto Questo è straordinario Qui c'è scritto Preso In dosi massicce Non esiste L'antidoto Ma chi lo fa Un cobra Cosa sono Cosa siamo diventati Porca Io non lo so E questa gente qui Scrive delle robe incredibili Non vedete che sono tutti uguali Si incartano tra di loro Usano i giornali Comperati da noi Da milioni di persone Per parlare male uno Dell'altro L'altro dell'altro Boca parla male di quello là Ferrara parla male di quello là Tutto Ma telefonatevi a casa E non rompeteci coglioni a noi Ma è possibile Ma scusa L'ordine I giornalisti E usano Usano parole Che non vogliono più dire niente Come attacco al territorio C'è un sindacalista Che dice attacco al territorio Attacco al territorio Lo puoi dire Se sei un ceien E poi i giornalisti Li vediamo quali sono Hanno fatto la guerra Quando c'è la notizia Io sono convinto Amici Veramente Che se noi Non leggessimo I fatti I fatti Non accadrebbero Accadono Perché li leggiamo Se non leggi Non è successo niente E quando accadono Cos'è successo Ve lo ricordate Guarda la memoria Come con tutto Ci dimentichiamo L'invasione dei carri armati Sulla piazza rossa Eh Ve lo ricordate Il giornalista Ha detto I carri armati Stanno avanzando Verso la casa bianca Ma come Ma non c'era Non ce l'aveva Quell'altro La casa bianca Ti cambiano Poi uno Ti dice Ecco forse Una manovra Del KGB Il KGB L'abbiamo chiamato Per anni KGB KGB Anche i russi Ha detto Ma cos'è sto KGB Non ci capiscono Stanghiano le parole E abbiamo visto E c'erano due giornalisti Uno è Giulietto Chiesa Che ha scritto anche un libro Non so come Deve essere un genio Un medium Perché Perché Sì Era È vero Il canale 5 Che ne so Era a 30 km Dalla piazza Dove succedeva il casino Era a 30 km E cercava disperatamente Dalle domande Che li facevano Dallo studio Di sapere cosa stava succedendo Allora Dallo studio Dicevano I carri armati I carri armati Sì I carri armati Stanno avanzando Va bene Invece Dall'altra parte C'era un certo Gamba corta Ricordatevi Gamba corta Della RAI Che era In un albergo A vedere La CNN In televisione Che ce la vedevamo Comodamente Qua da Roma Allora cosa cacchio Ci sei andato a fare Stavi qui Risparnevamo qualche milionata Questo è il giornalismo Questo sono queste gente Che scrivono Delle cose Incredibili Ma stiamo scherzando E nessuno Dice delle cose Andiamo a cercare I cirini pomicini Per 5 miliardi Quell'altro 3 miliardi E poi sta succedendo Una cosa incredibile Che io vorrei dirvelo Ma Eh no Perché poi devo ancora Andare via 5 anni Poi invecchio Io non so come fare Allora No 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 Termi Allora Allora Vedi che le grandi industrie Le grandi industrie Stanno molando Operai La macchina La Fiat sta molando Le macchine E investono Non li vetti licenza E tutti quelli che fanno Machine IBM Inversono cosa? Nella telefonia Nei telefoni Senza peso Telefono E sta iniziando adesso Una roba E io vi faccio vedere Oggi Il più grande Truffatore che c'è Oggi Vi faccio vedere La fotografia Questo è Veramente Bisogna metterlo In galera Subito Vi faccio vedere La fotografia Allora Questo è Un numero Di telefono L'144 E io casualmente Dato che ho 6 7 4 bambini 5 Vivo con i bambini Che sono una meraviglia Mi dicono Papi Ho telefonato Dove? In Australia Ho parlato con uno In Australia Perché I grandi pubblicitari Quelli che dovrebbero fare La pubblicità Progresso Educativa Ti mettono Ste cose qui E ti iscrivono Ci sono i club La televisione Italia 1 Questi canale 5 Ti tempestano i ragazzi Questa è una manovra diabolica Si acchiappano ai ragazzi E ti fanno telefonare Chiara Telefona Telefona Aspetta Dunque piano bar Veggente in ascolto Un veggente in ascolto Chiama Funny box Divertiamoci in 10 O solo in 2 Ah Decolla con noi Feeling fun Ah Beverly Hills Se hai una cotta E non sai cosa fare Questo è il numero giusto Da chiamare Tempestano i nostri ragazzi Di 13-14 anni E questi chiamano Non puoi mica controllarli E c'è gente Sa bene Non fatto clamoroso Che mi dispiace Ve lo dico proprio con la morte nel cuore Centinaia Di migliaia di famiglie Di padri di famiglia Che guadagnano 2 milioni al mese Gli arriva una bolletta Da 7, 8, 10 milioni Mi vedono 10 milioni Ha sempre pagato 300 mila C'è un errore Vanno alla SIP E quando vai alla SIP Sei un Non sei mica Giulio Sei uno con una bolletta Dici Sono Giulio Sì vado al 0579 Vado Sono Giulio È un errore No È lei che non sa educare i suoi figli Non li segue E stanno rovinando Migliaia di persone per bene Con questa cosa qui Se io voglio un servizio così Chiamo la SIP E dico Me lo mette Ma mi fai una roba così Mi mandi tonnellate di pubblicità I ragazzi chiamano Ed è un pacco Io mi rivolgo ai ragazzi Il 114, 11, 14 Sono tutti nassi C'è una stronza Perché bisogna essere una stronza No Che dice Come ti chiami Giulio Stai in linea 2000 mila scatto 2000 cib Più IVA Stai in linea Che ti chiamo Tu sei Roberto Aspetta un po' Parlatevi Devo dire che non lo conosco Per socializzare Per far socializzare i nostri I nostri ragazzi Li metti lì un calcio ballilla Li fai giocare a calcetto Il ping pong E sono migliaia di miliardi Sulla pelle nostra Allora Ho detto Chi c'è dietro questa cosa qua? È innocente Non sembra Ma quando metti miliardi di mani C'è la SIP Allora La SIP La STET La PRIC La TOC La PAC E tutta questa gente Che è invisibile La forza di questa gente Che sono invisibili E noi siamo milioni Ci cittadano milioni Siamo milioni Di là milioni Tu non sei più giusto Quello lì È invisibile Allora diamo un volto Chi sono i responsabili? Eh? Ci state? Allora Bevo Prima bevo Perché Vi lascio un po' Prendete carta e penna a casa Prendete carta e penna Perché dobbiamo fare una cosina E non gliela facciamo passare liscia Allora 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 Ormai che trovo una cosa Allora Vi dico chi è la SIP Allora La SIP È una società per azioni È privata quindi Grande La privatizzazione Ah no raga Io ho visto ieri una cosa straordinaria Che mi ha dato questa carica qui Ho visto i ragazzi a Milano Italia Sono straordinari Ponevano delle domande con una criterio Perfetti Puliti Educati Salutavano Perfetti Mi ha dato una carica a Dio mio Che sono qua stasera Per E Intervistati da Da questo chi che non li lascia mai parlare Allora via Concluda Ti giochi la vita Concluda E con sopra questi 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 morti Morti Professori Che fanno dei danni Che parlavano E io non capivo Non capisce nessuno I ragazzi li capivano Siete giustissimi Andate avanti così Avete una forza dentro Che questi qua Debono Li seppelleremo Con Ma non con la violenza No Con un pernacchione Con qualcosa Sempre con ridicolo Allora vi dico questa cosa qui Che è meravigliosa La SIP Gli azionisti della SIP Sono La STET Cis nominus Cis nover Philadelphia nomis Poche cose Mediobanca Cuccia C'è sempre Però voi mi direte Sì ma la STET Chi è la STET Vi dico Chi è la STET La STET È questo Siete pronti Mandate a casa Bambina Girati per piacere Girati La STET Bambini a casa Per favore Le mamme Tengano i bambini La STET Il padrone della SIP C'è la STET È la finanziaria È la mamma Della SIP La STET È questo qui Si chiama Biagio Agnes Ne avete sentito Parlare voi Io Era il direttore qui La RAI Va benissimo Infatti Ora vi dico Quando io ho fatto Sei anni di televisione Fermi Ti spiego questo Io ho fatto sei anni Qua dentro Non l'ho mai visto Di persona Mai Nessuno qua l'ha mai visto Si sentiva Ed era un terrore I dirigenti che dicevano È arrivato Biagio Biagio Si è arrivato Poi uno come fa Un paurino Che si chiama Biagio Tutti terrorizzati Biagio La loro forza È l'invisibilità Perché Allora non l'ho mai visto Ma ci ho parlato per telefono L'ultima due volte Di fantastico Perché mi chiamavano Per terrorizzarmi un po' Cioè con la stima E l'ho sentito parlare E ho detto Mi diceva Combinazione è di Avellino Abbiamo un precedente Che bisognerebbe Parlargli Vabbè E parlava come quello lì E mi diceva Grillo con la stima Che ci allega Tutto la stima Io ho il piacere Io ho il piacere Di dirle che lei è sulla rete 1 E deve pensare Alle famiglie Perché la rete 1 È delle famiglie Quindi Do bene Do bene La ringrazio Non sa i congiuntivi Non sa l'italiano E è presidente Di una cosa Che fattura migliaia Di miliardi Ma questo Per questo qui Non si vogliono I carabinieri Per mandare via qui Si vuole mia nonna A me se mia nonna Viva Lo fa fuori in un attimo Con la borsetta Sai quelle borsette Di finto cocodrillo Che avevano il nonna Andavano da questo Con la faccia Piagli Vieni qua Piagli Vai a scuola Vai a scuola Infatti io pensavo Non essendo più in Rai Che l'avessero mandato Almeno a imparare In italiano Alla scuola radio e lettra Almeno per parlare Almeno Per parlare come Biscardi Non ce la fa E' andato Fermi E' andato E quest'uomo qua Ci sta prelevando Sta facendo Veramente Sta facendo dei danni A delle famiglie Con due milioni C'è gente che paga Dieci milioni Ci sono i papà Che chiamano telefono Azzurro Sono i papà Che chiamano Venite a arrestare Il mio figlio Mi sta rovinando Finanziariamente Ma tu pensa Con un numero così Che dici Che dici Che dici Dici Che schiacci Una volta schiacciavamo Dici Pensa Pensa nei comuni Nei ministeri Tutti gli impiegati Ah come va lì l'Australia Poi il telefono erotico E' un altro pacco Quello 001 E' un altro pacco C'è gente che si mette Lì si preparano Perché negli spot Ti fanno vedere Ah Ciacenza Si preparano E per farsi una cosa Una cosina Passano dall'Australia Magari è sotto casa sua Lei E in Australia Fanno il porno Non possono farlo qua Perché è proibito il porno Lo fanno nelle Filippine Tutta norma di legge E i ragazzi Si attaccano a queste cose Sentono delle porcate E poi ci stupiamo Che a Civita Vecchia Fanno degli stupri E noi proteggiamo i ragazzi così Allora 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 io vi chiedo una cosa Allora di prendere carta e penna C'è un piccolo detatto Mandiamo Una cartolina postale Mi dispiace farvi spendere dei soldi Sono 400 lire Lo faccio io anche domani mattina La mandiamo una protesta scritta Alla SIP Vi va? Una letterina Vi dico il testo Intestato a Al vergognoso Biagio Agnes Presso la vergognosa SIP Roma Il testo Vergogna Toglietemi a vostre spese L'144 Se lo voglio deve essere facoltativo Non obbligatorio Stanno facendo dei disastri incredibili Ma non c'è Io voglio un po' di Un po' di senso civico Sono i nostri figli Porca puttana Se no ci pensiamo noi Ma ferma Perché poi Non sarei onnesso a dire che c'è solo lui Perché vedete Succede Berlusconi Bisticcia con l'Espresso Panorama Con 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 l'Espresso Repubblica Col Corriere Bisticcia No? Non sei tu un fascista? No! Siete tu fascisti Vediamo chi è Il nuovo 144 c'è Biagione Il magnate Il magnate Il magnaccio Perché uno che guadagna su del gente Che si fa le cose È un magnaccio Non è un magnaccio Oltre a lui ci sono Perché io dicevo Come fa questa pubblicità Di 0-0 140 140 144 144 A essere sul Corriere della Sera Rizzoli Quello Se sapesse una cosa così Come fa? Prendono soldi da questi qua Sono loro Il numero 1 4 4 Sono Biagio Agnes Edifon Gruppo Rizzoli RCS Sono loro che mangiano 200 lire a scatto 500 più IVA 200 alla SIP 300 Se lo dividono tra Rizzoli Berlusconi L'imprenditore per la democrazia Per le nuove società Berlusconi Biagione Agnes Biagione anche la STET A San Marino Cosa farà a San Marino? Trafico di gettoni Poi c'è la Brondo Tella Radio Monte Carlo Radio Monte Carlo Radio Monte Carlo Radio 105 La cosa dei giovani La Semedia Beghi Gruppo Espresso Scaracciolo Proprio Scaracciolo Scaracciolo E di nuovo E di nuovo la RAI Con una piccola quota Dove sei il Presidente? Il nuovo Allora Io vi chiedo Di fare così Mandare questa lettera Di vergogna Per abolire Il numero 144 Lo faccio io Domani mattina Se rimarrò solo Non mi vede tanto Che per 5 anni Se ci siete voi Ci sarò anch'io Va bene Grazie E' tutto E' tutto E' tutto E' tutto E' tutto Io guardate che Io credo di piacere Perché lo faccio da tanti anni Queste cose Ma è un po' di senso di civiltà Le televisioni che si mangiano l'uno con l'altro Usano la televisione Emilio Fede Non riesco a staccarmi Non riesco a staccarmi Quando lo vedo Che parla Che fa questi tenerali Completamente finti Il Papa con l'Ace Ma si può Ma neanche Costanzo Arriberebbe a una cosa così Costanzo ha spento Non l'ha mandato in ordine Controlla Lui la notizia Le notizie le monta E' un uomo incredibile Dove l'ha preso Berlusconi? L'avrà vinto a carte L'ha vinto a poker L'ha vinto a poker sicuro Ha fatto un chip Ha detto vedo Cazzo c'era lui Va bene? E va E va Guardate Vengono fuori i più spregevoli Vengono fuori Lui la zattera Per chiamare la zattera Che fa lui quel giochino Fai l'144 Fai l'144 Ti fanno spendere Per chiederti un parere a te Ti fanno finanziare Berlusconi Sei tu che mi devi pagare a me Se vuoi un parere da me Hai capito dove gioca? Mai buongiorno col quizzi 1, 4, 4 Sono di nuovo loro Con questa lettera Li calmiamo Li facciamo capire Basta questo invece E noi poi cerchiamo i cirini e i pomicini Ci fregano con le parole Ci fanno apparire un servizio Così in più Invece non l'abbiamo chiesto No? Le parole Con le parole ci fregano Dio mio le parole Datore di lavoro Datore di lavoro Tutto Fanno il nome Tutto per il lavoro In nome del lavoro Si sono commesse delle cose Incredibili Sempre per fini buoni Datore di lavoro Chi è? Rispondete Siete paganti Quindi potete rispondere Siete persone Datore di lavoro Dattore di lavoro Chi è? Il datore di lavoro Dattore di lavoro È quello che dà il lavoro Chi dà il lavoro? L'operaio L'altro dà lo stipendio È un datore di stipendio Sarebbe cambiata la storia Ma è vero Il lavoro è vivo Non è un martello È una persona Tutte queste cose qui Usano ancora termini Come proletariato Proletariato Andiamo verso il 3000 E usano proletariato Hai capito? Però la ricchezza con i figli Vuol dire proletariato Ma chi fa i figli oggi? Gli operai? Gli fai i figli? Qualche miliardario? Oppure La cosa Quella con l'inseminazione artificiale La Come si chiama? La mila Sì ora Io Vorrei sorvolare Ma io vorrei un attimo Un attimo No un attimo Di raccoglimento Per quello spermatozoo Perché deve fare Una roba Ma dove sono? Quali sono? Le parole Ora vi faccio le parole Creano devastazioni Piove due giorni a Roma È il danno Piove quattro giorni È catastrofe Capito? È catastrofe Quando viene veramente la catastrofe Non avrai più la parola Per definirla Morirai negato E' arrivata una Che cosa dico? Ce l'ho usata Le parole Anche l'ho usata Qual è la nave Mai costruita Dall'uomo La più sicura È una delle più grandi Come l'hanno chiamata? Ve la ricordate? L'inaffondabile Come si chiamava? Titanic 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 Due giorni affondato Va bene? E mentre stava affondando C'era la gente Che ballava e cantava Perché era impossibile Per loro pensare Che una nave Che si chiamava Titanic Potesse affondare Se l'avessero chiamata Vediamo un po' Se galleggia Stavano a ballare A cantare E erano tutti fuori Aggrappati Le parole Creano dei disastri Invece Il più grande Uno dei più grandi Scopri Uno dei più grandi Navigatori Charcoal francese Quello che scoprì L'antaride Si fece una barca Lui Per andare nei ghiacci Non la chiamò mica Stupra Pinguini Spapola La chiamò Purquapa Perché no? È andato e tornato Però questo qui Ma tutte le parole La parola Ethernet Cosa vi viene in mente? L'Ethernet È l'Amianto L'Amianto È vent'anni Dopo vent'anni Abbiamo scoperto Che è cancerogeno E lo stanno tirando via Dalle scuole Dalle cose Vent'anni Come l'hanno chiamato? Eterni Eterno Vent'anni Più E quello che lo faceva Che probabilmente Ha causato qualche milionata Di morti Nessuno potrà mai provarlo Perché tutto A norma di legge È uno svizzero Che ha scritto un libro Bevo Che dice Ha scritto un libro Che si chiama Cambiare rotta E lo credo Non fa più il tetti Di Eterni Fa le suoci Fa le suoci Che loro non chiamano Orologi Li chiamano Beni Di consumo Emozionale Perché li compri Già che c'hai Dieci orologi C'hai la sveglia Ma vedi uno scuba rosa Oh emozione Lo devo avere Beni di consumo Emozionale Allora con le parole Si fanno i disastri Per arrivare alle parole Più si va Una signora Che va a fare la spesa Se io dico Questa cosa lava Più bianco Cosa pensiamo Che la cosa lavata È più bianca Quindi è più pulita È esattamente L'opposto Non è che non è vero È il contrario È più sporca È più bianca Sì Ma è più sporca Perché dentro i detersivi Ci sono i riflettenti ottici Che riflettono di più la luce Come una mano di vernice È come se tu Tieni le mutande Se sei mesi Poi le levi Ci dai una mano di bianco E dici Guarda com'è bianca È bianca Sì va sotto C'hai dei topi morti L'ultimo così E ci E ci fregano con le parole Veramente Noi siamo Ma fra cento anni Quando leggeranno la nostra storia Ma rideranno come dei pazzi Con le parole Con le cose Vieni dai nostri concessionari Ti finanzieremo fino a 18 milioni Asterisco Vai a vedere l'asterisco Se ci rimangono i soldi Ma cosa Noi siamo così Con le parole Noi prendiamo questo Per esempio Atlas Che è un detersivo ecologico Dicono Probabilmente è vero Questo è ecologico Perché? Perché ci sono delle sostanze Come l'olio di cocco Che sono naturali Sì ho controllato C'è l'olio di cocco Però l'olio di cocco Lo fanno Fare ai filippini E gli danno 15 dollari al giorno Le capane pieno di pesticidi Allora di là Devassi le persone E di qui Lo faccio per il mio bambino Allora Un'ecologia fatta così Io non voglio un mondo ecologico Perfetto Popolato da stronzi Io voglio un mondo Perfetto Popolato da delle persone Il rispetto Prima delle persone Fai le scuole ai filippini Dagli 50% più della paga sindacale Non usare i pesticidi là E chiedi Volete pagare un mille lire in più? Io te le do un mille lire in più E poi me lo vendi qui E mi dici le parole Guarda le parole Mi fai un primo piano qua Voglio che capi C'è che capi Mi permetto di dirvi Perché io sono stato più attento di voi È il mio mestiere Lo leggi qui cosa c'è? Cosa c'è scritto? Lo leggi? C'è scritto Fino al 50% Di plastica in meno Pensate cosa vuol dire Fino al 50% di plastica Eh? Forse la metà C'è la metà Ma poi la metà di che cosa? Non scriverci niente Fai più bella figura Ma fino a Cosa vuol dire fino a È come se tu entri in un negozio E dici Che bei pantaloni Quanto costano? Fino a 80.000 lire E le do 2.000 lire E te le porti a casa Ecco come Con degli inghetti Con delle piccole Con delle piccole cose Con le parole Io non voglio più essere preso per il culo Con le parole Uno che mi scrive qui Firmato natura Cosa vuol dire firmato natura? Che è arrivato un pioppo E mi ha fatto questo Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Fermi 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 Il regalo Poi il regalo Ecologia È esattamente l'opposto di regalo Ecologia significa meno E meno La nuova ecologia Che sono degli esperti Se ti abboni Ti regalano l'orologio ecologico L'orologio ecologico Ma l'orologio ecologico È quello che c'hai già Avrebbero dovuto dire Avremmo voluto regalartelo Ma siamo ecologisti Tieniti il tuo Così non combiniamo dei casini Con la plastica e il petrolio E questi ti regalano Il regalo C'è scritto io Io non mi invento niente Guardate Il regalo La ecoborsa La ecoborsa Ma cos'è? Una borsa che apri e fai Ah! Eh! Cos'è? Cos'è? Magari amici Fermi Maga parti Magari la ecoborsa Magari Fosse la ecoborsa quella lì Invece l'hanno fatta davvero Non ci volevo credere L'hanno fatta davvero Eccola qui Eccola qui L'ecoborsa Che non è altro che Il profilattico di questa Tu hai la tua ecoborsa Te la metti sulla ecoschiena E vai a fare la ecospesa Allora No, fate bene Allora Sembrate finti Non sembrate paganti Allora Una delle parole più devastanti È l'ambiente Parola ambiente Ecco Ambiente Cosa vuol dire? Ambiente 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 Uno pensa Oh L'ambiente L'ambiente Ci sono rimasti due panda Dio Due pandini Che mangiano bambù giovani Mi dispiace che ci siano rimasti due panda Ma magari un giorno la Cina aprirà le frontiere Ci sarà una ballata Con sette milioni di panda Con la nostra fotografia Sulle loro malicefie Che nel frattempo Ci saremo estinti noi Non c'è più un falegname Un fabbro Ci stiamo estinguendo noi Le parole gratis Una delle parole peggiori Ecco Non fate Gratis Paghi due E ritieri cinque Ma scusi Perché? Allora quando ho pagato due Per anni Mi avete fatto pagare due per due Ma avete fatto un culo così Ma cosa significa? Eh? Cosa significa? Non vuoi Tutto omaggio Tutto gratis Io voglio dirvi Io sono andato a fare la spesa In tutta Europa Amici L'ho fatta Sono andato a informarvi Perché parliamo di Europa Ma magari non la conosciamo Io l'ho fatto per voi In Europa Se tu ti per Vai un po' via da casa Vai via da casa cinque giorni Cosa succede a tutti? Cosa vi succede? Vai via da casa Arrivi c'è la posta E dici Dio mio quanti amici che c'ho Cioè Questo, questo Ma chi te l'ha detto? Ma come ti permetti? In Danimarca È proibito dalla legge Facciamo due righe Non puoi mettermi niente Nella cassetta Se non te lo dico io Punto Perché mi fai prendere Carta Sono alberi Non te l'ho chiesto Devi buttarli via Vanno di nuovo al macero Sono di nuovo Perché? Perché gratis Tutto Mi voglio leggere Repubblica Al venerdì Mi danno Repubblica Al venerdì E in omaggio Gratis Ti danno È questo degli affari È venerdì di Repubblica Il Questo qui Il compact disc C'è un compact disc Con scritto Vietato Aprire Me lo regali E poi Mi vieti di aprire E poi perché Chi ti ha detto Perché mi devi regalare Tutta sta roba? Scusa Mi piacerebbe anche capire Se mi regali Potrei anche ringraziare Chi mi regala No? Mi piacerebbe Contaccambiare Grazie Magari regalo io Qualche Chi Mi regali Come se vai in un bar Dici Se io questo lo voglio Me lo metti Mille lire a parte Mi leggo il giornale Ma se me li dai così Sono 5 atti di carta 800.000 copie Sono 400 tonnellate di carta Che butto in un forno Il forno C'è la cellulosa Va nella tua sera Diventa diossina Ve la ricordate? La diossina ve le leggia Ve la ricordate? Per i prati Per i cosi Va nell'acqua Nell'acqua c'è il planto I pesi mangiano il planto Tu vai al ristorante Spende 80.000 lire E ti mangi Una bistecca Una bistecca Così li rovino No Io non voglio La legge di mercato è Domanda Offerta Prezzo Se questa cagata qua Cagata per il modo di dire Nel senso Lo fa anche il Corriere Al giovedì Li vogliamo rovinare? Al giovedì compriamo Repubblica E al venerdì il Corriere E scusa Mi regali tonnellate di roba Tonnellate di roba E io ho un po' di sospetto Sono di Genova E io ho uno che mi regala C'è un detto Scusate È un detto folcloristico di Genova Che dice Che la vita è una tempesta Ma prenderlo nel culo È un lampo Allora Ma cosa? Ma io non voglio Ma perché mi devi regalare tutto? Non voglio più Non voglio Perché tutti gli anni Porca Eva Porca tutti gli anni Arriva uno E mi dice Quanto è? Niente È gratis Com'è gratis Un tonnellate Questa è Amazzonia Mi tengo quelli vecchi Oppure Il progresso Il futuro È questo Il futuro Fai una cosa così Lo metti nel coso Digiti il numero Ti viene fuori Ce l'abbiamo Il futuro In Francia Fanno così Noi tonnellate di Amazzonia E te li Mi dia i vecchi Ci sono un po' Mi dia i vecchi E allora vi faccio una domanda Questi qui hanno dei costi Secondo voi Sì o no Sono tonnellate Pensate un po' Provate a pensare a milioni Invece che singolarmente Siamo milioni Ecco il loro segreto Che noi siamo milioni Non posso Da soli non esistiamo Provate a pensare Hanno un costo Milioni di tonnellate Centinaia di miliardi di tonnellate Ce l'hanno Chi paga? Una domanda Chi paga? Noi Questo Loro Noi Aspetta È bello Sinceramente Come? Non paghi quando te li consegnano Sono gratis Sulla bolletta Se si pagassero sulla bolletta A Genova avremo ancora gli elenchi del 1921 E che sulla bolletta Paghi 1800 lire Che è una stronzatina di consegno Non le paghi sulla bolletta Sarebbe troppo semplice Ci accorgeremo E magari non li vorresti Ci accorgeremo Li paghiamo come? Di 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 Con le pagine gialle Con la pubblicità Con i prodotti pubblicitati qui Tutte le volte che andiamo a comprare In un supermercato Ci acchiappano così Diecimila miliardi all'anno Ogni volta che facciamo la spesa Nessuno ce lo dice Noi poi cerchiamo i cirini Sono dei ladretti di galline a confronto Ma stiamo scherzando Paghiamo tutto così Andiamo a fare la spesa Ma scusate Bevo Avete la sensazione Avete la sensazione Un palo con una donna che fa la spesa Vai a fare la spesa Esci col carrello Hai speso 200 mila E vai a casa Levi le robe E dici ma Come noi c'entano? Tuo marito ti guarda Ti dice ti sei imboscata il grano No Non mi sono imboscata Perché compriamo spazzatura E la chiamiamo prodotto Ci fanno comprare delle cose E le compriamo Compriamo per esempio Questo qui È un prodotto colgate Che finalmente hanno tolto il gardone Dopo dieci anni Che ce l'hanno menato col gardone Si vede che uno di noi Se ne è accorta E ha dato la cosetta Questo cazzo di gardone Allora questi hanno detto Se ne sono accorti lo togliamo Eh? Allora Colgate con gardone Compriamo un prodotto Tu compri 4.000 3.000 euro Un prodotto Hai comprato un prodotto Vai a casa Questo qui Non è più un prodotto Ma come si apre Questo qui È un rifiuto Questo qui quando hai finito Lo butti via Perché non lo fanno ricaricabile Quando è finito Veli me lo ricarica Spendersi 200 lire In Germania ce l'hanno Ce l'hanno grossi Fanno dentifrici per 6 mesi Ma non giro Si parano dentifrici Ma lo pagano come? E noi ridiamo Dei tedeschi sono Faciloni Ridiamo Però la loro economia Viaggia Un pochino meglio Della nostra o no? Vi faccio vedere Il Vademecum Questo qui si chiama Vademecum 2 Lo fa la Enkel In Germania costa 700 lire 700 La Enkel Fa questo In Germania 700 lire E la stessa fabbrica Fa questo Da 4.000 lire Che si chiama Antica erboristeria 4.700 Perché antica Ti immagini le vecchiette Che lo fanno a mano Hai capito? E allora noi No assolutamente Poi c'è gente Che non dice C'è gente Che poi fa delle cose Incredibili Queste cose qui Qui c'è scritto C'è una roba Da 1.000 lire Acqua, zucchero Qualche sale minerale Qua ha detto Il Gatto E qui c'è scritto Sconto 500 Costerà 100 lire Fate una cosa Andate nel negozio Lasciatela lì E fatevi dare direttamente Le 400 di differenza Mio mio Fa delle cose incredibili No? E allora Allora La pubblicità Fa diminuire i pezzi I prezzi Meno male Se no saremmo rovinati E allora Dovremmo comprare Fa diminuire i prezzi Domopac 30 metri 32 metri di alluminio 9.000 lire È più buono sicuramente Senza marca 30 metri di alluminio 2.500 lire 2.500 Sarà meglio Quello l'assenzato Ma per fasciare la roba Dio mio Le spugnette Spugnette Queste qui Vileda Costano 4 spugnette 2.500 lire Queste qui 4 spugnette 1.000 lire È per lavare le pentole Saranno senz'altro Migliori quelle lì Dio mio Il sale Il sale Quanti tipi di sale ci sono Questo qui Costa 800 lire E questo qui 250 lire Il sale Dio mio Il kit e cat Questo il kit e cat Costa 2.700 lire E questo qui 700 lire Sarà senz'altro Più buono il kit e cat Ma me lo deve venire A dire il gatto E allora E allora Dai Mia mamma Mi ha lasciato questo Mia mamma è in eredità Mi ha lasciato questo La bottiglia del latte Te la portavano a casa Senza etichetta Non serviva Era la tua centrale del latte Adesso abbiamo privatizzato Mia mamma mi ha lasciato questo Io a mio figlio Il tetraplac Fa 45 miliardi di cartoni Usa e getta E questo è il principio Usa e getta Questo qua è fatto Di carta Con i pini della Svezia Di plastica Con le petroliere E di alluminio La bauxite Arriva Dall'Australia Per fare questo Petroliere Dal Golfo Persico Camion Di alberi tagliati Dalla Svezia E camionate Di 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 Alluminio Lo prendi E lo butti via Dovresti tenerlo Perché costa andare in banca Di recente addirittura Costa l'ira di Dio Mi faccia un conto E lui ti dice Si venga Che ce l'ha anche Poggiolini Un conto così E invece buttiamo via Allora il futuro qual è? Gli industriali cosa dovrebbero fare? Dovrebbero sedersi un po' lì Guardarsi in faccia Dice Quello Questo è il passato E non si fa più Questo qui È il passato E non si fa più Però il concetto Di bere Ridare Riutilizzare Non riciclare È perfetto Mio nonno l'ha inventato Non facciamo più il vetro Ma la bottiglia Per il Per il duemila Il tremila C'è Porca puttana Eccola Qui Questo qui È un policarbonato È di plastica Viva la plastica Io non sono mai stato contro la plastica Viva la plastica Questo qui lo riutilizzi Ottanta volte Ci metti quello che vuoi È un policarbonato Ottanta volte lo riutilizzi La bottiglia di vetro A meno Questo E i tedeschi Ci sono arrivati I nostri Si guardano ancora Le punte dei piedi Le sinergie Hai capito questo Parlano di riciclaggio I nostri Perché? Perché hanno l'anima sporca Il riciclaggio Non esiste È un altro modo Per rifare i soldi Dai su Riciclaggio Ma vi sembra normale Tu prendi una Credete veramente che Tu butti via una bottiglia La ricicli Riciclare Secondo voi cosa vuol dire? Che buttiamo via questa E da questa La scioglione E fanno un'altra bottiglia? Le avete viste Chi fa il riciclaggio? Sono società Recycling Inves Healthy Just Walking Smaltimation Andare Poi sono due marocchini Che di notte Vanno a buttare tutto sotto Poi non è possibile Riciclare questo Amici qua Se bruci questo Ma non lo dico io Lo dice la legge dell'entropia Cioè la seconda legge Della termodinamica Dice Che se tu sciogli questo E Dall'ordine No? Crei una poltiglia Che ha un disordine Dal disordine Non riesci più A fare l'ordine Non esiste È come se Non so Se tu fai bollire un acquario O tieni una zuppa di pesce Però È difficilissimo Che da una zuppa di pesce Ritorni a fare un acquario No Non esiste Cancelliamo la parola riciclaggio E mettiamoci Riutilizzo Allora ci Ci faremo veramente Del bene E basta Ma non puoi buttare via Tutto questo Guarda Dio Dio E la scienza La scienza dovrebbe fare il suo ruolo La scienza fa quello che può La scienza Dio mio La scienza La scienza fa quello che può Ma non può fare quasi niente Perché la scienza è critica Non è mai certa Lo scienziato ti può dire Ti può dire Che se prendi un foglio di carta Lo butti lì Cadrà sempre lì Tutti gli scienziati Però Lo stesso pezzo di carta Invece di buttarlo lì Lo stesso pezzo di carta Fai questo Una volta Guarda Non cadrà mai nello stesso posto Guarda Ora per farmela posta Cade proprio nello stesso posto Ma Non cadrà mai Nessuno scienziato Per la legge del caos Io lo butto lì Basta una minima variazione Che cambia traiettoria Basta che uno lì Dei poveri Da 40.000 Faccia una leggera scoregina Questo qui va dall'altra parte Lo scienziato è critico E non è mai certo Ha dei dubbi Lo scienziato Lo scienziato ha dei dubbi Il pubblicitario no Il pubblicitario è certo E io non sono nemico Del pubblicitario Io vorrei Io faccio il pubblicitario Sono io uno che fa pubblicità Ho fatto pubblicità Vorrei Vorrei parlargli a questa gente qua Di cambiare Perché non puoi più Fare queste cose qui Crei questi disastri qui Fai felice la tua donna Regalale una perla Ma se non ti ci mandano loro a cagare Vi ci mando io a cagare Allora Cambiamo sistema Dio mio Perché fanno dei danni Fanno dei danni Lo sai che fanno dei danni Ci sono dite Che fanno delle devastazioni A fine di me Fanno non so La Nestlé Fa un latte per i bambini Il latte per i bambini E' giusto farlo Perché chi non può dare il latte Ha questo latte qui Però ne producono tonnellate Tonnellate devono vendere Devono venderci Devono essere i pubblicitari Allora sapete cosa succede Per vendere Che la Nestlé Nel terzo mondo Da questo latte Alle mamme del terzo mondo Convincono le donne I pubblicitari Sai questi creativi Che si chiamano creativi Creativi Dio è un geometra Sei quelli che si parlano Io li ho visti Ci sono stati L'ho fatta Girano con delle cartelline Con dentro cartelline Con altre dentro cartelline E dentro niente E si chiamano Tu sai cosa sei? Copy Dov'è l'account? È giù dal copy E fanno il trend Del target Ma neanche loro Ci capiscono niente Si dicono così Per giustificare Il grano che prendono E allora delle volte La Nestlé Nel terzo mondo Convince le donne Del terzo mondo A non allattare più Ma dargli il latte chimico Della Nestlé E i dati unici Ultimi Sono che nel 92 Un milione E 150 mila bambini Sono morti Ma non per la Nestlé Perché là Non hanno l'acqua inquinata Devi far sterilizzare I biberon Non ce la fanno Non gli danno gli anticorpi E un milione Di bambini Vanno via Qui non lo può fare Perché ci sono i pediatri Che dicono Ma cosa sei scemo Se puoi allatta Solo che non allatta più Nessuno neanche qui Perché non c'è uno spot Di dire allattate Perché sarebbe Il buon senso Il buon senso Sta andando via Perché nessuno ci investe Due miliardi Cinque miliardi E allora le donne Stanno allattando Meno anche qui E come? Sempre con questi qui Che fanno queste pubblicità Le più innocue Sono le più danneggiatrici Le innocue Shampoo Queste donne Con i capelli Che girano Strafichissime Che girano Con le minigone Entrano nei consigli Di amministrazione Firmano dei bilanci Una donna così Non si tirerà mai fuori Una tetta E la facciucciare A un bambino Se si tira fuori La tetta La facciucciare All'amministratore delegato Allora E allora E allora E allora Amici Io ho talmente Questo poco tempo Due ore in cinque anni Non mi sembra E vorrei dedicare Dieci secondi A una pubblicità La voglio fare io Stai Nella loro Magistrale E quasi persa Interpretazione Prego Perché le tette Le usano per tutto Tranne che per queste cose qui Ci fanno le copertine Sull'espresso Su panorama Che poi non c'entrano Con le tette I titoli Vedi che il titolo è Crolla alla sinistra C'è una tetta per terra Crolla alla destra C'è una tetta nell'orecchio Il cerchio si chiude C'è le tette a volte al collo Io voglio darvi Dieci secondi Per ricordarci a tutti Che in fondo Servono anche Per adattare un bambino Che sa fare del moralismo Per l'amor di Dio Eh Ecco io Avrei finito Avrei finito Me ne vado Quindi se io Faccio il mio lavoro Corro i miei rischi Voglio solo dirvi una cosa Faranno dei dibattiti Sicuramente Cercheranno in tutti i modi Di disintegrare Quello che ho detto Ci riusciranno Per l'amor di Dio Non sono mica Dico mica la verità Però io vorrei Che teneste presente una cosa Quando sentite parlare Un imprenditore Chiunque Pensate sempre Da chi prende i soldi Quello che fa E dove lavora Un imprenditore Se vuol fare un dibattito Viene Prende il prodotto Che costruisce Lo mette lì Allora la gente Conosce il prodotto E conosce anche L'imprenditore che lo fa Se noi abbiamo questo parametro Abbiamo anche il modo Di giudicare la gente Perché nei dibattiti Non capiamo assolutamente niente Io vi saluto E adesso abbiamo fatto Una grande cosa stasera Abbiamo fatto una cosa Straordinaria Secondo me Adesso Questa gente qua Sa Che noi sappiamo Un po' di più E credo che il futuro Ci sarà un po' più di rispetto Ci sarà un po' di più Ci sarà un po' di più Io Insomma Anche la RAI Che fa concorrenza Canale 5 Quegli altri si fanno concorrenza Il senso della civiltà Lo stiamo perdendo Io mi ricordo Ero piccolino E vi ricordate anche voi Quando c'era solo la RAI Un canale Misero la seconda rete Vi ricordate cosa facevano? Quando iniziava il programma Della seconda rete Mettevano un triangolino E ti dicevano Senti Sta cominciando una cosa Che potrebbe interessarti Guarda cosa c'è Questa è la civiltà Non questa qui E allora Mi piacerebbe anche Che la borsa Che è lo stantuffo Di tutte le nostre disgrazie Ce la spiegassero C'è uno che ci dice Da anni le stesse cose L'avete mai capita La finanziamo tutti E nessuno capisce Questi qui che girano Chi vuole le azioni Toro fanno così Chi vuole le azioni Del vecchio Banco Ambrosiano Fanno così Chi vuole le azioni Della Montesison Fanno così Giocano E noi non capiamo E arriva uno E arriva uno Tutte le sere Tutte le sere Ci dice una cosa Che dovremmo capire E una cosa Che io Mi sono informato Per voi Ci dice il prezzo Del petrolio Quindi ci dollari Al barile Circa no E ci sembra Una cosa normale Quindi ci dollari Al barile Ma anni Che ci dicono così Gli sarà venuto In mente Una volta Anche a Everardo Dalla Noce Anni Neanche tu Ci sarà venuto In mente A qualcuno Di dirci Quanto ce n'è Di stramaledetto Petrolio In quello Stramaledetto Barile Allora io Ho fatto una cosa Amici Ho fatto una cosa Il barile L'ho preso E' questo qua Ve lo giuro Questo è L'unità Di misura Del mondo Il mondo Va avanti L'unità di misura È il barile Costa 15 dollari 20 mila lire Ce ne sono 156 litri Ho fatto un conto Ho fatto un conto Fermi Scusi Ho fatto un conto 15 dollari 156 litri Un litro Di petrolio 130 lire Ma com'è? Come 130? Fate in casine Ma noi dovremmo invece Gli svizzeri L'anno scorso Si sono aumentati Da soli Il 20% La benzina Se la sono aumentata L'abbiamo presi per il culo Tutti gli svizzeri Si sono aumentati La benzina Ma loro si aumentano La benzina Perché sanno che 130 lire Al litro Il petrolio Non è il prezzo vero Con i casini Che c'ha Devasti Ambienti Petroli cose Petroliere che si spaccano Il petrolio La benzina Doveve costare 10.000 lire Al litro E tu avere Una macchina Che con 2 litri Fai 100 km Il costo Del tuo spostamento Non cambia È giusto? Se tu ci metti Hai una macchina 2 litri Fai 100 km E la benzina Costa 5 volte Tu consumi 5 volte meno Chi se ne frega? Però con i soldi Copri i costi Del petrolio E tu ti inquini 5 volte di meno Ci vorrebbe Mi direte voi La macchina Che va con 2 litri Di benzina Ogni 100 km Mi direi È la macchina del futuro E chi la fa? È chi la fa? La macchina del futuro Che con 2 litri E chi la fa? Dov'è? Dov'è la macchina del futuro? Perché? Ma eccola qui La macchina del futuro Questa macchina del futuro La vedete qui? Sapete dov'è? Questa fa 2 con 2 litri e mezzo Fai 100 km 130 km all'ora Costa 9 milioni È ultrasicura Si chiama Renault Vesta 2 Sapete dov'è la macchina del futuro? Al museo dell'automobile di Parigi Allora noi ci vendono Delle macchine Non perché ci piacciono Per farci consumare petrolio Perché droga e armi vanno così Petrolio e macchine vanno così Allora ti fanno la Twingo La Twingo ha un motore di 15 anni fa Fatto da un ingegnere della DDR Asta e bilancieri Che consuma come un tiro Quella fatta a buon D Ma la vita è fatta a buon D A buon D Non sai dov'è davanti o dietro Quando sei in coda di su Perché? Hai capito? Allora Allora dovremmo noi Pagare la benzina A 10 mila lire avere una macchina così Non ce la danno I tassisti tedeschi È 10 anni che i tassisti Hanno un filtro dell'olio Che cambiano l'olio ogni 70 mila chilometri A noi ce lo fanno cambiare ogni 7 mila Bisogna che questi industriali Si guardino un po' in faccia Non possiamo più pagare 200 mila litri d'olio all'anno Non abbiamo più i soldi È un po' troppo così E allora E allora E allora il fatto clamoroso È che noi paghiamo 130 lire al litro Una cosa che fanno delle guerre Tra un po' non ce l'è più Fa un casino Il petrolio costa 130 lire al litro La San Pellegrino 1200 Paghiamo 10 volte di più l'acqua Noi paghiamo la pioggia Perché questa è pioggia Che va nelle rocce E filtra un po' E diventa minerale Quale cultura Quale civiltà Il mondo ha mai pagato la pioggia È la nostra L'abbiamo privatizzata Chi ce l'ha? I peggiori ce l'ha picco Quelli di tutti ce l'ha E allora paghiamo 1200 lire al litro Quest'acqua Perché qui a Roma Magari beviamo la San Pellegrino Che è di Milano E a Milano Bevano le Ferrarelle Che è di Roma E allora noi abbiamo Sull'autostrada 500 camion Che vanno avanti e indietro Che se ognuno si bevesse La sua cazzo di acqua Toglieremo 500 camion Avanti e indietro E questa qui Costerebbe la metà Allora Allora I pubblicitari I pubblicitari Che io non Io vi amo Non vi odio Non ve l'ho mai detto Che vi odio Siete caduti in una trappola Di questi viecchi giornalisti I pubblicitari Invece di dirci Con i nostri soldi Spendono 150 miliardi all'anno È il più grande business Perché l'acqua La beviamo tutti Non puoi privatizzare Una cosa Che beviamo tutti Là che la diamo ai bambini Sono tutti quelli lì L'aria Ci stanno privatizzando Queste cose qua La scuola Ma stiamo scherzando Terrore Spendiamo 150 miliardi Dei nostri soldi E le uniche tre cose Che ci servirebbero Sapere Non ce le dicono I pubblicitari Dovete dirle Ci dovrebbero dire Non berla nel Bevela vicino A una fonte Vicino a casa tua Togli i camion Dall'autostrada Ronco bilaccio Del Mugello E Barberino Si libera In un attimo Bevela nel vetro Bevela nel vetro Perché ce l'hanno fatta bere Per dieci anni Nel pvc Dopo dieci anni Che noi abbiamo bevuto C'è un po' tossico Meglio che non Ma come Dopo dieci anni Me lo dici Che è tossico Il pet Fra dieci anni Ci danno il pet E' meglio che lo togli Meglio il vetro Ma cazzo Allora L'avete mai sentita dire Questa cosa Che bevela vicino a casa tua Bevela nel vetro E bevela con poco sodio Il sodio fa male al cuore Sono tre cose Che ci piacerebbe sapere Invece Con 150 miliardi Dei nostri soldi Ci dicono Se la bevi Diventi una strafiga Se la bevi Digerisci Boario Se la bevi Si vede Si vede che sei un coglione Ecco quello che ti dice Ciao a tutti Grazie Ciao Un po' di rispetto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Musica.